Diakite per questa gara non sarà disponibile per una scelta societaria e quindi noi come squadra dovremo adattarci a questa nuova situazione. Diakite per noi è un giocatore importante, questo è in dubbio. Costa Ferrera cercherò domani di rimetterlo davanti perché per noi nella fase offensiva è importante averlo avanti. Adesso è arrivato I Vitturini che ci può dare una buona mano. Queste sono situazioni che io come allenatore devo gestire, devo saper gestire. Io credo che l'allenatore bravo sia quello che è bravo a gestire queste situazioni, non tanto far la formazione, ma riuscire a mantenere un ambiente all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo altamente concentrato, altamente competitivo. E' lì la mia più grande sfida perché poi la fase tattica secondo me tutti gli allenatori sono bravi, tanti allenatori sono bravi. La gestione di queste situazioni è un po' più problematica. Cerco di fare il mio massimo per mantenere all'interno della squadra un ambiente senza nessuna lamentela. I ragazzi a volte neanche se ne rendono conto che queste cose possono destabilizzare e all'interno dello spogliatoio si inizia a parlare di altro. Invece noi dobbiamo essere bravi a mantenere un ambiente vattato, un ambiente in cui nessun tipo di lamentela possa intaccarci. Insomma, compattarci noi perché poi quando l'arbitro fischia dobbiamo essere pronti. Il modulo ha portato dei benefici, ha portato una fluidità del gioco e quindi andremo avanti con quel modulo. Anche se poi anche in settimana abbiamo riprovato il 4-2-3-1 ma in fase di partita magari si può cambiare, questo non lo so. Però è un modulo che ha funzionato, ha funzionato perché c'è più equilibrio adesso in campo. Quindi andiamo avanti così. Però, ripeto, la differenza poi la fa la mentalità e non è il modulo. Il Mungo sarà confermato e a Vittorini si è allenato sempre e sta bene. Certo, dal punto di vista tattico non credo che sia preparatissimo perché poi noi con la linea dei quattro difensori lavoriamo molto su degli automatismi. Però bisogna fare un sacrificio perché non è che abbiamo grandi alternative. E noi ultimamente stiamo giocando con tanti giovani in campo e non possiamo pretendere sempre e comunque che dobbiamo vincere per forza. È vero che stiamo vivendo un momento in cui non arrivano le vittorie, ma ci lavoriamo perché vogliamo tornare ad aggiustare le cose. Questo è indubbio, tutti siamo un po' dispiaciuti. Però poi ci sono le situazioni che vanno valutate e complessivamente, secondo me, ai ragazzi possiamo rimproverare veramente poco, pochissimo.